Ciao, sono il personal trainer David e ti voglio presentare il BodyMage, strumento innovativo di ultima generazione che ha radicalmente cambiato la qualità dei miei servizi. Il BodyMage è un dispositivo unico al mondo, clinicamente validato da medici, scienziati e studi trentennali di bioingegneria e fisiologia applicata al metabolismo e alla composizione corporea, oltre ad essere coperto da brevetti internazionali. Il BodyMage si può utilizzare in maniera molto semplice tramite qualsiasi dispositivo, tablet o qualsiasi smartphone, col quale si può calcolare la composizione corporea del soggetto tramite l'analisi di una semplice foto di profilo su uno sfondo bianco. Grazie a dei cursori e all'applicazione degli algoritmi potremo processare la foto e ottenere con grande precisione i valori di massa grassa, massa magra, indice di massa corporea, metabolismo basale e acqua corporea. Il BodyMage permette inoltre di controllare, analizzare e monitorare anche soggetti a distanza perché non è necessaria la loro presenza fisica o il contatto tramite elettrodi o cavi. Quindi il cliente si scatterà una foto, la invierà al professionista. Il professionista aprirà il BodyMage, potrà elaborare la foto e ottenere il calcolo della composizione corporea. Tutti questi dati potranno essere condivisi tramite il cloud che ha in comune il BodyMage con tutti i professionisti e i clienti che lo potranno utilizzare. Uno dei grandi vantaggi per i professionisti del settore sarà quello di poter ampliare il parco clientela, includendo anche soggetti che abitano in città diverse. Inoltre si avranno grossi risparmi perché non sarà più necessario includere nella propria attività strumentazione costosa. Personal Trainer e preparatori 13 esperti di alimentazione da oggi avranno mandato in più per soddisfare i propri clienti.